Io sono Sacchi Elisabetta, presidente dell'associazione Comitato ONA di Pesaro, che è nata recentissima il 6 di dicembre 2019, dopo che alcuni di noi hanno perso un proprio familiare proprio per l'amianto. La nostra associazione tratta le numerose problematiche legate a questi manufatti contenenti amianto sul nostro territorio. Il nostro fine è la salute e l'ambiente e arriviamo tramite l'informazione, la conoscenza e la prevenzione. La prevenzione, inviamo queste segnalazioni agli organi competenti per fare operazioni di verifica nei siti. Quindi le segnalazioni dei cittadini sono di fondamentale importanza perché ci permettono di individuare possibili fonti di inquinamento e fare la messa in sicurezza del sito. Infine, non è solo questo, stiamo cercando di sensibilizzare anche le istituzioni perché vengano stanziati dei fondi e dei bonus per incentivare il privato a fare le bonifiche di questi manufatti. Ricordo che appunto l'amianto è stato bandito nel 1992 con la legge 257 proprio perché è stata accertata la nocività. Ma ricordo anche che non tutti gli Stati hanno aderito a questo bando. Quindi abbiamo ancora la Russia, la Cina e il Kazakistan che estraggono amianto. Come associazione abbiamo già segnalato all'autorità abbandoni di lastre di Eternit in posti veramente isolati dal monte di Corbordolo, sull'Ardizio e quindi facciamo un appello proprio ai cittadini perché ci aiutino e ci sostengono in questa lotta che è per il bene comune. Noi praticamente stiamo cercando di arrivare ad una mappatura di questi luoghi per individuare fonti di inquinamento, mappatura e censimento soprattutto. Ci potete eventualmente contattare al seguente numero 349 4578 062 o l'indirizzo email comitato onapesaro-birgilio.it. Abbiamo una pagina Facebook dove potete eventualmente aggiornarvi con le notizie che teniamo monitorato sia sul nostro territorio che a livello nazionale.